cos'è? auguri papà ti voglio bere papà non fatti prendere dalle alce questo sono io con tutto quanto il pancreas eppure potrei fare uno di quei video tipo fino a tre mesi fa non avrei nemmeno potuto immaginare di poter stare sopra un palco e poter sopportare un concerto di un'ora quindi voglio prendermi un attimo di spazio per ringraziare i medici che è soprattutto una dottoressa in particolare che mi ha letteralmente salvato la vita e al netto di questo volevo ringraziare la persona più importante che mi è stata vicino in questo periodo che è mia moglie ti amo tanto nora